E' stata una settimana difficile sull'isola per Eva Grimaldi, provata dalla fame e dalla nostalgia di casa La produzione della reality, allora, ieri sera ha voluto farle un regalo per darle un po' di forza, e cosa c'è di meglio della voce di una persona che ami? Ecco allora un bellissimo messaggio di Imma Battaglia, la celebre attivista del movimento LGBT, a cui l'attrice è molto legata da anni La produzione della reality, allora, ieri sera ha voluto farle un regalo per darle un po' di forza, e cosa c'è di meglio della voce di una persona che ami? Ecco allora un bellissimo messaggio di Imma Battaglia, la celebre attivista del movimento LGBT, a cui l'attrice è molto legata da E ci ma voi, ma te fai sempre un sacco di casino, ha detto ironica la battaglia nel video, non ho capito, ma tu chi volevi salutare? E' successo un casino, tutti che parlano, tutti che chiedono Ma volevi salutare? Ma volevi salutarmi un nipote, Daniele Battaglia, o volevi salutare me, Imma Battaglia? Secondo me volevi salutare mi Eva? Sei una grande L'attrice, che nelle scorse puntate aveva più volte chiesto della sua Imma, non ha trattenuto le lacrime, avevo bisogno di sentire la voce delle persone che hanno Sentirmi dire che io recito davanti alle telecamere in questo contesto mi fa molto male Ho sofferto tanto per questo Avevo bisogno di sentire un contatto con le persone che mi conoscono Io qua sono una bambina, sono tornata alle mie origini Una bambina sola che va avanti e che non molla mai Comunque saluto tutta la famiglia Battaglia, tutti i nipoti, i fratelli, i cognati, tutti quanti